Questo impasto si impasta soltanto, non c'è bisogno di lavorarlo come si è fatto con la pasta, solo unire la farina. Se io faccio dratto, questa è farina zero. Allora gli dici che... No egg? No egg. No. Solo se occorre. Se fosse una pasta tanto mureggia... Loro se ne accorgano anche mentre la lavorano. Di solito... No, con le patate rosse no. Normalmente no, 99%. Ma se senti che il tuo dò è troppo mureggio... Allora, scusate? Sì, quando vedete che il medio è troppo mureggio. Allora loro nel farle più di una volta se ne accorgano fin da ora che tipo di patata è. Perché già fin da ora si usano patate diverse come noi la giorno si è usato queste. Qui è tutta bagnata, non sta in sé. Cioè, quando hai fatto il gnocchi... Poi è sempre meglio un uovo che tanta farina, anche per sapore. Allora... Allora...